La Campagnola presenta sul filo del ricordo E mi son chi in Filanda Spettacolo storico folcloristico a cura dei gruppi La Campagnola di Olgete Molgora I Promessi Sposi di Oggiono, diretti dal maestro Walter Sala e l'Università del Monte di Brianza Scopriremo una storia antica ma ancora attuale di donne che con il loro lavoro nelle Filande hanno segnato il nostro territorio Lo spettacolo, presentato da Corrado Sottocornola, ci accompagnerà in un viaggio fra i ricordi E lo farà con le voci narranti di Adele Sironi, Antonia Sala, Chiara Bartesaghi, Nicoletta Castagna Nelle Filande si cantava e si pregava mentre si lavorava Ma le ragazze non potevano chiacchierare tra loro Infatti, venivano multate se venivano sorprese dalle assistenti a chiacchierare La 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 al mio letto si rende te ti sarai ricordi la gigia, la gigia brutta, brutta e cattiva se non è brutta e scelta, allora brutta, appena ti tirai il zompite al cuore sul filo del ricordo e mi sono qui in Zilanda spettacolo storico folcloristico la storia con la S maiuscola rivindica a sé certe prerogative e guarda al folclore come a familiare minore quasi di genere si fa grande dei potenti e dei violenti che la realizzano e trascura il sentimento nostalgico della tradizione vorremmo tentare un esperimento di ibridazione tra la storia, storie e folclore restituendo il senso del tempo sentimenti di vita comune speranza per un futuro migliore del presente